Mi hanno detto che lei aiuta la gente ad ottenere quello che vuole. Diciamo che offro delle possibilità. Voglio essere più bella. Una notte, una notte intera con lei. Io le darò un compito e se lo porterò a termine avrà quello che ha chiesto. Mi dica cosa devo fare. Più una cosa del genere non la farò mai. Ma perché chiede cose così orrende tu? Perché c'è chi è disposto a farle. Abbiamo fatto l'amore. Pensi di rinunciare? Non ho avuto un'idea. Chi sei tu? Per me lei è una specie di psicologo. Come faccio a sapere che lei non è il diavolo? Non lo può sapere. Dammi un'altra possibilità. Era questa la tua possibilità. Io ho così ammazzato una persona per te. L'hai fatto per te. Ricordatelo sempre. Sei un mostro. Diciamo che tu da mangiare è mostro. C'è qualcosa di terribile in ognuno di noi. E chi non è costretto a scoprirlo è molto fortunato. Perché c'è chi non è costretto a scoprirlo è molto utile. Sì, chi non è costretto a scoprirlo è molto più utile.